Ciao a tutti ragazzi, sono Saxxy, e bentornati su World for Tune. Siamo di nuovo qui su Timberwood Park, e... che dire, cominciamo, shall we? Let's start! Nel precedente episodio... Reyes, abbiamo visto il passato di... di Renzo Milclown, e... abbiamo visto... la sua tremenda fine, e allo stesso tempo abbiamo visto che è Reyes... Reyes... o l'abbiamo perso, o... cioè, o è deceduto, o... come stavo dicendo, o l'abbiamo perso, oppure l'hanno rapito. E sembra che sia stata la stessa identica persona. Che... Avete degli sconti per le forze dell'ordine? Do you have a law enforcement discount? And by discount, I mean free. I think I understand, honey. And yes, we do. Nice! I'd like to order... Sure, every... No dog. I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, honey, while it's still hot. Oh my... That is the worst hot dog I've ever eaten. Oh... Gotta go. La sua reazione è stata bellissima. Mattona! I feel better now. Lei ha sboccato l'anima peggio di chiunque altro. Eh, per tutto, seguiamo quel sentiero. Perché ho... Dritto per dritto. Hello Reno! Yes, sir. Yes, sir. It is... Quite annoying. No, sir. Yes, sir. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. Già non mi stava per nulla... Oh, granello. Già non mi stava per nulla... Cioè, era molto sospetto sin dall'inizio. Ah, ok. No way am I gonna look in there. I can smell it from here. Granello di polvere. It's my specks of dust. Lots of super absorbent paper on this roll. Looks like a really big tube. Hmm. I look good. You sure do. Oh! Move it on better end. Huh? There aren't any maps left. Sorry little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Figlio di... Welcome to Quickie Pal. Hi there. I'm Quickie Pal Leonard. How could I help you? I'm special agent Ray. I'm not holding if that's what you're thinking. Do you know anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. I'm not surprised the only women you see naked are in magazines. Uff. Have you seen something in the city? Have you seen anyone acting suspiciously around town? Actually, now you mention it, I did see something suspicious a couple of nights ago. Now, I was on the late shift getting ready to close up and grab some Zah When Willie the town bum walks in Was totally whack when I think about it. Why did Willie seem suspicious to you? Well, normally we have to toss him out because the dude smells grody And he never has any money But for the first time in forever Bro pulls out this wallet And flashes a fat stack of dead presidents I thought it was kinda bitchin' when he bought out the liquor cabinet Oh Possibile que le portafoglio aqui vista fosse de Willie? Could the wallet you saw have belonged to Willie? Oh, no way That wallet was his I figured he got lucky and found it Whoa, whoa, whoa But come to think of it I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it At the time I thought it was the cherry mouthwash he drinks But it could have been blood What do you do, Leonard? So, what's your deal, Leonard? Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No, you just told me your name And it's also on your name tag Do you like your job here at the QuickiePal? Heck yeah! I've got a freaking sweet deal here With free coffee And minimum wage Plus I don't get many customers on the late ship So I get plenty of time to think Fortunata You said you get a lot of time to think I'm like an abstract thinker Way ahead of the curve, man My mom says I should be more like my cousin Bernard Who got a scholarship to MIT But why be like that, dweeb? When I could be like Chuck Edmund Tell me about Chuck He's my freaking hero, man Dude, never went to college Just started building his machines when he was a kid That guy made this town rich Just by doing what he loved Mi sembra che mi li molto Chuck You seem to really admire Chuck That's why I dropped out of high school I want to live my life for the man Like some peon in a polyester cage No offense Offense, take it These flickering lights are going to drive me insane Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better If you get a little toked up and Ah I mean Yes, officer I'll get those fixed right away Cosa pensi dello stato attuale della città? What do you think about the state of the town? Just ignore the losers who say this town is over Ma lo è? I mean Not even We got everything a person could ever need here And the quickie pal for one Give me a look at your shop I'm going to look around your store It's called Levo's Bear Repellent When you have this, you don't need to bear arms Let me know if I can help you with anything Take it It was a sample from a traveling animal repellent salesman But I doubt if it actually works I wouldn't want to find out Thank you, Zai It's a video camera I haven't seen Reyes for a while Wonder what happened to It looks hungry I don't have any finger though Let me know if I can help you find anything It's an I'm sorry you're hamster dog I'm not big on keeping rodents as pets It's an I'm sorry for forgetting your birthday card That's sweet It's an I'm sorry you're feeling like beep card Please It's an I'm sorry for being a dick card It's an I'm sorry your face won't come off card There's a picture of a clown with a lot of hair Let me know if I can't find anything It's an I'm sorry you were cut out of the inheritance card Mi dispiace che ti abbiano depennato Don't forget to smile at the camera My boss likes happy people Quasi si fece l'alba E lì c'è il circo Lavoro per le FBI me la so cavare I am a federal agent I can take care of myself And a darn fine agent I'm sure of But we have laws around here And everyone is required to have an official map Mappe che tu hai preso Una mappa? Sul serio? A map? Seriously? Oh yes, and not just any map But an official map E dove la trovo questa mappa ufficiale? And where would I find this official map? Well, the county is Plummerino out of them I guess this really messes up your investigation I'm sure the head office will understand the Reno Shall I mark the case as unsolved? Che bastardo Assolutamente no Gli agenti ferradelli non si avvengono mai Non c'è una chance Gli agenti ferradelli non si avvengono mai O devo dire Gli agenti ferradelli non si avvengono mai Uh Esatto Non ci sono delle ciambelle che aspettano di essere mangiate? Non ci sono delle ciambelle che aspettano di essere mangiate? Non ci sono delle ciambelle che bisogna mangiare? Beh, mi hai trovato qui Oh, questi ciambelle non si possono mangiare themselves Ma abbiamo lezioni qui e tutti sono necessari di avere un'mappa offiziale Sì, giusto, tornando in città a prendere una mappa Sì, sei certo Andrò in città a prendere una mappa Uh, i ciambelle si sono buoni Che bastardo Scusa di cosa Ray si è iniziato a prendere Un errore Ho bisogno di restare concentrato e soltanto Atletico, eh Atletico contro la nostra carissima Lara Croft Che... potete tranquillamente cercare la playlist che vi metto qui sopra An arm, extended in friendship An arm, extended in friendship or supplication. Huh. Hard to tell. Certainly looks fake. È made of plastic. No murder here. I can't turn it no ho preso? a quanto pareci I can't budget, I can't budget it looks like someone knew I was gonna get stuck down here unless my kidnapper wrote that as a trap only one way to find out I guess I'd say that lead somewhere I don't want to go looks like someone knew I was gonna get stuck down here, on their ass it's a dime but it's now pretty slimy I can see a quickie pal store oh ok nice 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 quindi peter mi tocca qualche cosa ora peter mi tocca mi tocca mi tocca quindi si trova qua sotto comunque quello lì è un bastardo veramente intanto io torte di ricky torte di ricky che vita emozionante è la tua sto cercando una valvola per una nipo non per me eeeh 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 44 eeeh 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 sono a posto con le valvole se vuole thanks ok hun just holler if you need me mhm vc67 ok era vc c 67 eeeh 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 sei sicura di non avere sospetti sull'assassino? sei sicura di non avere sospetti sull'assassino? oh no 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 sono sei ingenua affidarti così intanto sei naive per essere così credibile magari te grandi agenti dei cittadini non li hanno capito esibituci in un po' bella maно erfumo queste persone, e si sono due di me alcuni loro erano un po' eccentrici, certo ma non posso immaginare nessuno cosa c'è un murderer Visto che non vendi più tante, come si chiama il tuo negozio adesso? Valvorama. Valvorama, dai. Che è valvoloso, no. Valvolandia, no. Valvolì, valvolà, no. Valvorama mi piace. Perché hai smesso di vendere torte? Perché hai deciso di vendere valvole? Sei davvero così contenta di vendere valvole? Sei davvero così contenta di vendere valvole? Oh, credo. Questi valvole sono la mia vita. Pensavo che mi eravamo rinforzato il rinforzo di frutto ogni giorno, ma il rinforzo di ozono fra i valvole è ancora meglio. E il loro gloria elettrica è così caldo come un'appelpia fra l'ovno. No. Meglio i dolci. Meglio le torte appena sfornate. Cosa pensi di Chuck? Oh, è così triste che Chuck Edmund è passato. L'ho stato il mio ero. Però è tutto, non lasciare la città. Non lasciare la città. Ok, hon. Solo hollare se mi necessitai. Lei è molto ingegna, sì. Ok. Che culo. Sì, l'ho dovuto dire. Che culo. Come si chiamava il tizio? 1796, 1795 lo voglio provare, 1795. 1795. Ciao, sono Antonio, non posso rispondere a questo momento. Sto cercando dei maledetti piani per un dottore fetulante. Ciao. Oh mio Dio. Geni, 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 geni. Basta, basta. Sono... Sono dei geni, basta. Ok, 8501. 8501. Ok. Ok. Ho fatto un'applicazione di un'applicazione di qualcuno che sia iniziato nella scuola. Devo aspettare che Rino sia tu. Non mi piace di essere interruttato quando il wrestling è iniziato. Ah, ciao, Sheriff. Sono felice di vedere tu. Questo caso non sembrava come qualcosa che i fedi saranno interessati. Tu devi andare in casa a Rino, prima di farci. C'è un uccidero. Buon consiglio, Sheriff, ma puoi me fuori? Sì, seguimi. Oh, mi dovrei prendervi. Ah, niente di questa città mi preoccupa più di più. Beh, c'è un bus che resta in alcune ore. Credo che possiamo capire l'investigazione da qui, Rino. Non mi convince proprio. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, attivate la campanella degli avvisi, così da ricevere ogni volta la notifica di un nuovo video. Se vi sono simpatico, perché no? Iscrivetevi. Dal suo tipo è tutto, qui Saxxy. Ciao.